La mostra si inserisce nella seconda edizione del Festival Global Art promosso da Rosa di Donna e organizzato al Castello Svevo di Termoli. Percorsi tra note e colori, il titolo della personale presentata dalla pittrice Anna Sforza, l'artista di Bari, ha proposto 20 dipinti sul legno con tecnica mista, olio e polimaterica. Nelle opere gli elementi della natura, i volti e le figure femminili fanno da protagonisti, mentre l'anima dell'artista, osservato Rosalia Ruggero, che ha curato la parte critica, vive in un contesto immerso nel verde, con la presenza di piante, fiori e frutta che la circondano e in questo giardino aggiunto si affina la sensibilità interiore. Tra i soggetti spiccano la presenza del mistero, i vecchi merletti, la maschera, le calle, le melagrane, gli spartiti musicali e il davanzale, limite oltre il quale si intravede il senso dell'infinito. È importante, ha affermato Anna Sforza, mettere lo spettatore nelle condizioni di andare oltre l'immagine con l'immagine, con elementi di facile fruizione per trasmettere profonde sensazioni ed emozioni. La mostra si è conclusa con una festa d'arte alla quale hanno partecipato artisti e autorità locali. Ha collaborato anche l'associazione culturale Andrea Pazienza di Termoli.